Salve a tutti, sono Master Wallace, carico, carico, carico. Ragazzi, oggi un video, ma anche questo, richiesto da tempo, e dai, lo facciamo, così chiariremo anche queste cose, perché noi dobbiamo sempre chiarire le cose, ok? Vedete quell'orologio lassù? Tutti mi dicono, Master, ma quella sveglia è sempre ferma sullo stesso orario? È perché il tempo non scorre, è come un fiume ghiacciato. Ma questo è un argomento di fisica che magari tratteremo in un altro video. Allora, Mike Hohern, più o meno ho sentito dire che la pronuncia è questa, da alcuni, e poi che sia esatto o meno, avete capito di chi sto parlando, vedete anche nella copertina. Allora, la domanda è questa, da molti, anzi, guardando anche così, molti video, articoli stranieri, viene indicato come il re de natura, cioè costui sarebbe natura. E quando uno sente dire natura, e vede questo fisico qui, e quindi l'aspetto estetico più le performance che questo tizio fa, uno dice, cavolo, se questo è natura, insomma, prima che ce l'avevo io, cioè ne passa di acqua sotto i ponti. E io vi dico una cosa, non ci arriverete mai, perché semplicemente questo tipo, natural, non è. E' una cosa che ovviamente nel mondo del culturismo, fitness, chiunque un po' nell'argomento vede, questo tizio non lo è, come tanti altri. Però siccome invece c'è anche una larga parte di gente, in genere ragazzi ingenui, che credono davvero a queste cose, perché non è che stiamo parlando magari di uno che fa il Ministero Olimpia, ha fatto anche gare importanti, però se parliamo di gente che fa il Ministero Olimpia, uno forse anche il più sciocco, il più ingenuo dei ragazzi capirebbe che quella gente in bonatura non è. Però lui insomma rimane in quell'ambito un po' così nebuloso, un po' stand by di atleta fitness model, ha fatto anche gare, insomma, è lì insomma. Però, lui è stato abbastanza ambiguo spesso nelle interviste, dove avrebbe ribadito che lui è natural, ha anche detto che si dice, ha detto che ha fatto varie gare, che è stato sottoposto dai test, quindi era sempre riuscito pulito, questo forse vi fa anche capire, come ammesso che questi test siano stati fatti, questo vi fa anche capire come i test alla fine ha la loro rilevanza, cioè se uno così esce pulito dai test, non lo so, allora possiamo chiudere il baracchio e i burrettini e arrivederci. Dunque, vi dicevo, no, partiamo un po' così, dato che si fa il confronto, no, facciamo un confronto fan master, perché io da sempre mi sono dichiarato il re venato, si sa, poi vengo anche irriso per queste cose, no, offeso, però fatto sta che nessuno veramente senza doping può competere con me, questa è la realtà dei fatti, per cui io di questo ne sono convinto, però facciamo un confronto con questo qua, no, tanto che dicono che è lui il re del natur, bene. Beh, ragazzi, se la mettiamo sul fatto dei numeri, effettivamente costui mi sovrasta, perché andiamo proprio sul lato, vogliamo quantificare, perché alla gente piace quantificare, quantifichiamo. Dunque, lui, da quello che so che ho letto, e poi ripeto, posso anche sbagliare, sono notizie che ho preso da web, quindi sembrerebbe che questo sia alto 1,90, quindi un bel pezzo d'uomo, io sono 1,77, e che, diciamo, adesso sto ai periodi di sua miglior forma, ovviamente, poi vi dirò anche nei suoi ultimi video che ho visto com'è la situazione, però parliamo della sua miglior forma. Questo qui pesava praticamente sui 115, 120 kg, così dicono, stiamo sui 115, quindi sarebbe praticamente un più 25 HP. Io, nel periodo di mio miglior forma, più o meno questa attuale, però che comunque quando ho fatto anche il video famoso dei più 18 HP, no, Master, Super, Define, era un più 18 HP, per cui già sul lato degli HP mi sovrasta, già 7 kg in più, o mettetela come vi pare, mi sta sopra. Guardiamo un attimo la qualità muscolare e la definizione. In certe foto, poi è uno che è praticamente a livello del mister Olimpio, quindi il percentuale di grasso è bassissima, anche qui non stiamo a quantificare, lui dice 4%, ma insomma è veramente bassissima, quindi più bassa di quella che ho potuto mostrare io, e poi vascolarità, la sua è molto più evidente, è veramente palese, rispetto alla mia che era, diciamo, dei limiti che ho potuto fare, quindi anche qui come definizione vascolarità mi sovrasta. vogliamo mettere come forza, da quello che ho letto, che si dice a fare 300 di squat, 230 di panca, mi sovrasta, certo. Allora il punto è, costui da natura sovrasta Master? Allora l'esposta è questa, se fosse natura mi sovrasterebbe e non di poco, ma semplicemente non è natura. Ecco che a questo punto la realtà comincia a prendere forma per quello che è realmente, perché costui se fosse davvero natura, questi numeri che ho voluto quantificare, non ci sarebbero in nessun modo. Ecco qual è la realtà ragazzi. I numeri di Master che sono reali, da natura sono veramente impressionanti, i suoi sono ancora più impressionanti, ma semplicemente natura non è. Questo è uno che nei periodi di miglior forma, possiamo vedere le foto in giro, a copertino, a gare, qua e là, nel periodo di miglior forma questo è uno che prende esattamente quello che prendono il Mister Olimpio, cioè né più né meno, non cambia niente. Sì, vogliamo anche parlare di misure, ho letto che lui dovrebbe avere 52-53 di braccio iperdefinito, io da definiti in questo momento ho 48, ho toccato i 52 in massa, quindi mi sovrasta anche lì, ma ripeto, secondo voi mi sovrasterebbe senza il supporto massiccio farmacologico? Ecco la domanda, che riporta tutti con i piedi a terra, ok? Bisogna ragionare su queste cose, perché questa è la realtà. Tra l'altro io vi dicevo, ho visto alcuni suoi video recentissimi di pochi giorni fa, o qualche settimana fa, anzi anche uno era di un giorno fa, i video più recentissimi tra l'altro non si spogliano nemmeno, cioè si vede che è rimpicciolito, però sta sempre vestito, anche quando si allena, non si spoglia più, sta vestito, però si vede che è rimpicciolito. In alcuni video che in casa lì che si spoglia, vi dico questo, la mia opinione, non prende più dosaggi tipo nel top della forma, sapete che lo fanno anche poi i campioni, per la gara c'è il tot, dopodiché per mantenersi un minimo, lui sta prendendo secondo me un minimo di supporto esterno, cosa prende, perché si mantiene comunque una forma, allora intanto vi dico, lui ha 51 anni credo, io ne ho 60, quindi ne ho anche quasi 10 in più, lui, ho visto quando si è spogliato lì in casa, non ha la forma diciamo quella che aveva in certi contesti, però si vede che è supportato comunque, cioè è supportato perché è comunque molto voluminoso, è bello pieno, abbastanza magro, non definitissimo comunque, molto magro, c'è sempre qualche vena che quando si sposta qua e là comincia la salta fuori, sono tutti indici che c'è sotto, perché se lui avesse ascoltato questo, se lui veramente avesse smesso tutto, ok, ma proprio tutto, a distanza di tanto tempo, 6 mesi senza prendere niente, facciamo anche un anno, lui, cioè se lo vedeste, ma sarebbe letteralmente irriconoscibile, irriconoscibile, ok, perché qui molti parlano bla bla bla, ma sarebbe irriconoscibile, invece si mantiene uno stato di forma, che è notevole perché c'è questo supporto minimale, che poi tanti altri fanno, nel senso che questi non staccano mai completamente, avete capito come funziona? Veramente io sarei curioso di vederlo proprio davvero natura dopo un anno, perché uno dice, ah però fa gli ex, gli ex bombaroli anche da quando staccano rimane qualcosa, dopo un anno che non prendono niente, non rimane niente, come gli ex mister olimpi che sono tornato metti, figurati, cioè, non rimarrebbe niente, quindi sarei proprio curioso di vedere il suo vero aspetto fisico, difficilmente lo vedremo, perché poi questa gente c'è anche un aspetto di marketing, lui c'è una grossa industria dietro, guadagna tantissimo, per cui alla fine è così, però voi dovete sempre capire che un conto è quello che vedete, che voi pensate che sia, un conto è la realtà dei fatti, perché è master e credibile, perché è dannatamente reale, sì, sono sopra, sono l'eccellenza dei natura, ma sono reale, e si vede che sono reali, si capisce, potrei adesso tornare sul fatto perché master è natura, tutti i fattori che ve lo fanno capire, ma master è credibile, perché è reale, questa gente qui, secondo voi sono reali, meditate su queste cose, e quando vedete questa gente qua che si allena, o cerca di insegnarvi le cose, vi spiega, cosa possono dirvi loro? Cosa possono dirvi che per voi, che siete veri natura, che si allenano, possa contare davvero? Non c'è niente lì, per voi che possa essere utile, però questi si sanno allenare, cosa si sanno allenare? A parte che lo ho visto anche allenarsi e non si sa allenare, preciso, ma in ogni caso, magari vi spiega anche un esercizio, vi fa vedere come lo fa, ho capito che cosa pensate di fare, vi propone forse un sistema, una teoria del culturismo naturale, progressiva, che possa portarvi avanti, che cosa vi propone questo, se non il suo fisico bombato, cosa vi propone? Nulla. Meditate su queste cose, master è qui con voi, sempre e comunque, e noi siamo contenti, perché quelli che ci seguono sono soddisfatti, migliorano, e la cosa importante per un uomo è migliorare, non fermarsi e regredire, ma migliorare, ok? Concludo con tre parole, siete pronti? Forse qualcuno sa già cosa sto per dire, ma ve lo voglio dire lo stesso, perché noi dobbiamo sempre dire le cose, siete pronti? non molate mai! Oh! 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 Grazie a tutti.